Benvenuto! Oggi preparerò pasta alle zucchine con ricotta e basilico Ingredienti per 4 persone 320 grammi di pasta, 3 zucchine, 400 grammi di ricotta e abbondante basilico Dopo aver lavato le zucchine, tagliate le rondelle Saltate le zucchine in padella con un filo d'olio e una presa di sale per circa una decina di minuti Le zucchine dovranno risultare croccanti Ponete sul fuoco una pentola con acqua salata e a bollizione raggiunta, buttate la pasta E nel frattempo temperate la ricotta con 3-4 cucchiai di acqua di cottura della pasta, olio di extravergine d'oliva, sale e pepe E aromatizzate la ricotta con abbondante basilico tritato Scolate la pasta al dente e unitela alle zucchine Unite anche il condimento di ricotta e basilico Mantecate con dell'acqua di cottura Dopodiché impiattate E insaporite con il grana padana grattugiato e delle foglie di basilico Se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like e iscrivetevi al mio canale di cucina Mi raccomando condividete il video, condividete il video, condividete il video Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta Ciao ciao da Gian Ciao a tutti